Un ultimo giorno in quel di Beppu. Non avendo altro da vedere abbiamo deciso di venire a vedere il monte Takayama. Ci troviamo all'acquario che si chiama Umitamago, l'ovo del mare. Questo da giù è Beppu. Questo va giù, sotto il nuvolo basso del Cardo, è il monte Takayama dove ci sono le scimmie. Ce ne erano così tante che un po' l'hanno regalata anche agli italiani. Questo è l'acquario, dopo del mare, e poi quando si è finito lì andiamo lì che c'è. Si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama Tanoura Beach. Finiamo la domenica, come l'altra volta, finiamo la domenica insieme ai Japonici al mare. è un po' lì, un po' lì, un po' lì, un po' lì che c'è, un po' lì che ha già visto. Quasi c'è? e che ha fatto e che ha fatto il potere da te da picchia più da un po' di legnate arrivate a nasce, guardate, tutte le legnate vedete qui non si ah, qui è di ora si qui qui questo si quando si si Buon appetito. c'è anche il tempio ma c'è la porta chiusa, chissà perché eh c'è la porta chiusa sono i besti in giro questa è quasi morta adesso ora non c'è ora? non c'è a spucciarla il piccino fa un casino sta arrivando forzecchio pieno viene da pochina di nicolini guarda, cazzo in un cespuglio di cime cazzo in un cespuglio di cime di dentro un scelto problema lo fa non argo questo è il più scioso 130 cime che schifo è tonespuglio pochino ci si diverta si stava fyok Che lavoro fai? Dalla mattina a sera raccatto merda di scimmia. Ottimo lavoro. Vedete? Questa si è fatta al bagno. Chi mi ha bagnato? Quella lì è saltata. È saltata? Penso che è saltata ma dentro? Nell'acqua. Ho sbagliato mica. Ora ci ha azzeccato. Mi stanno facendo la grade di un nome. Sao quattro non stai facendo la stessa. Scesso costruita tutta la stessa. Si la stessa se facendo, la stessa sanna. Ca la stessa sanna. C'è la questa data. Kec'è la stessa. E' un c'è il tamale lì, ma mia. E' mangiato in una fontina da girarischia. E' un paqueta. C'è un sonno. C'è un sonno lì. C'è una serie di sette scuro. C'è una serie di sette scuro. Continua stami sul culo. C'è una serie di sette scuro. E' una serie di sette scuro. E' una serie di sette scuro. Eh, già sapevo lo calava. Questo è l'ingresso e noi lo facciamo all'uscita perché all'andata abbiamo preso il trenino. Quello lì, con le scimmie. Perché siamo pionzi in salita con 100 yen. Sul monte Takasaki. Sul Takasaki Yama. Siamo montati con quello. Invece in discesa ci vanno anche le botti. A meno la maria. La spatola scimmia. Vedete il cartello. E anche la scimmia si spuce anche io. E' quella di vita, eh. E' l'area del parco. Noi siamo riscesi. Qui c'è l'acquario e la stazione della funivia. Quindi siamo qui. Qui c'era il tempio e la zona visitatori. dove si può andare a vedere. Vediamo quanto durano, eh. Vai, com'è andata. E' durata un po', però. Siamo sull'isola artificiale. Per fare un po' di maro. Qui c'è la barca dei pirati. Ci si mette il costume. Dopo le scimmie facciamo le scimmie di mare. Raggiù c'è il ristorante. Qui non noleggiano gli ombrelloni. Quindi ci metteremo all'ombra di una parma. in un pacchio. E faremo un po' di mare qui da Sai. E faremo molto un po' di mare qui da Sai. Ci faremo un po' di mare. E faremo un po' di mare qui da Sai. Grazie a tutti.